Giovedì 23 gennaio, nell'auditorium dell'Istituto Marco Polo, si è tenuta la manifestazione per i finalisti delle interessanti iniziative del contest musicale e del pugilato letterario, nell'ambito dei dialoghi prima dei dialoghi. La manifestazione ha ottenuto un attimo consenso da parte del pubblico. L'evento si è aperto con il contest musicale riservato ai solisti. In seguito si sono esibite anche le band, tra cui l'animata banda della scuola Media Massari, vincitrice della gara. Dopo pochi minuti di pausa è iniziato il pugilato letterario per le scuole medie, che ha visto vincitrici Giulia Belviso e Vittoria Ferrante, entrambe della nostra scuola. Un primo premio pari merito conquistato su un vero e proprio ring, con una coinvolgente lettura dei loro testi. Quando questo tempo voleva che mi rendessi un salvo, sapevo che farmi catturare non era la cosa giusta, così avrei fatto un favore a quell'imido uomo che mi portava a tronco e dal giocamallo nero. Ci guardavamo negli occhi, un brivido mi percorse la schiena, erano neri senza nessuna emozione. L'uomo delle produttive risposi agitato. Io le posso assicurare che non sarei mai stata capace di fare una cosa del genere a questa azienda che tenevo moltissimo. Mi sarei privato da solo del lavoro più bello che abbia mai fatto in tutta la mia vita e non so che sia stato capace di attribuire la vita a me. Grazie.